buonasera e bentornati nel nostro canale amici e amiche allora la settimana scorsa vi ho parlato dell'incidente che ho avuto che ho la gamma ingessata in tanti mi avete fatto gli auguri di presta guarigione e io vi ringrazio vi voglio veramente un mondo di bene siete fantastici che vi preoccupate per me allora partiamo subito con quello che ho preparato per voi in tanti mi stanno dicendo sui social perché non hai fatto vedere il mio video ti ho mandato il mio video la settimana scorsa ma raga ma io non è che ho pochi video o tanti video faccio una selezione e cerco di accontentare tutti mi dovete dare tempo ok con calma li farò vedere tutti tranquilli ok partiamo con i filmati e vediamo un po mi sembra un po inquietante un'idea può non mi sbaglio la settimana prossima non lo metto sembra che mi guarda la settimana prossima non lo metto perché fa un po paura ok partiamo con i filmati e vediamo un po cosa ho preparato per voi allora partiamo subito siamo a miami 2023 guardate un po l'evoluzione che fa questo oggetto nel cielo la velocità in cui va allora guardate giù a sinistra c'è il riquadrino che questa è l'immagine c'è il filmato originale di questo filmato e sulla destra abbiamo l'ingrandimento di questo oggetto ok ora che possiamo dire di questo filmato che assolutamente non è un drone perché i droni li conosciamo tutti hanno si vedono le eliche si vede la forma del drone in pratica qui vediamo una forma di campana è una cosa strana un oggetto non identificato perché è una cosa strana non conosciamo che cos'è quindi è un ufo oggetto volante non identificato poi cosa vogliamo inventarci che qualcosa appeso sul con il filo che ne so che a volte credetemi ne inventano di tutti i colori e me ne dicono di tutti i colori vabbè sarà una cosa per ma come cosa appesa ma avete visto l'immagine originale come era lontano era molto vicino alle nuvole che svolazzava lì guardate sembra un cappello una campana che forma guardate pazzesco questo filmato guardate come lui riflette la luce sulla destra guardate purtroppo raga quando facciamo questi filmati di sera purtroppo è così non pretendiamo dai nostri telefoni grandi cose quindi si sgranano le immagini perché poi quando zoom peggiori le cose pazzesco qua siamo a rallentatore eccolo la guardate guardate adesso guardate avete visto come riflette la luce guardate come va veloce è una cosa incredibile vi vediamo ancora troppo bello sto filmato troppo bello ma andiamo avanti dai ma mi è piaciuto tanto per far gli ho dato qualche minuto in più a questo filmato vabbè vabbè dai basta andiamo avanti andiamo a new york 2023 andiamo avanti regno unito 2023 guardate un po cosa filmano sti ragazzi avete visto come mantengono una rotta sono stabili guardate sembrano camminare in sincro tutti e due quindi eliminiamo assolutamente palloncini perché i palloncini come dico sempre anche negli altri video ognuno va per i conti per i fatti suoi non vanno così satelliti escludiamo perché sono bassi un satellite non vola così basso hanno la fortuna di fare questi avvistamenti e guardate cosa film questo da casa alza sta telecamera mannaggia 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 perché si mettono a guardare a occhio e abbassano il telefono questo è il problema e quindi ecco bravo alza il telefono e filma oh mamma incredibile oh quest'anno è una bomba eh raga quanti filmati mamma mia è incredibile ci sono tanti avvistamenti andiamo avanti qui siamo in francia 2023 guardate un attimo che sei un altro livello non è bellissimo non vedete quasi ne ho sconto non è stava si svinchono da dai non sei mati ne vedete non è altra di non è altra non è altra che sei un altra no è altra è sparito nel nulla andiamo avanti siamo in russia questo qui viene dal 2019 è stato fatto nel 2019 guardate un po cosa ha filmato non è una stella perché perché si muove e guardate ecco guardate come si muove e guardate quanto in alto questo oggetto ecco guardate 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 l'immagine guardate ecco avete visto mamma mia che 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 oggetto è questo che è filmato che è filmato pazzesco pazzesco non è vero non è vero mamma io ho capito e poi vediamo la storia è vero la storia la storia è vero la storia che è vero la storia? la storia è vero è vero ho visto come va veloce questo soggetto allora andiamo sempre in russia ma questa questa volta è il 2023 guardate un po cosa hanno filmato nel cielo sono cinque oggetti che volano insieme guardate sembra che hanno preso la forma di guardate sono sfere sembrano quelle classiche sonde aliene che vanno in per l'illustrazione in giro raga avete visto che filmati che filmati che vi faccio vedere mannaggia io davvero sono stupefatto allora qui siamo in serbia addirittura 2022 occhio andiamo avanti siamo sempre sempre in russia 2023 occhio guardate sembra lo stesso identico di prima con i 55 puntini ma qua ne vedo altri 1 2 3 4 5 o sembrano 6 che formazione è quella per le persone che filmano se ne accorgono di sé che è un aereo o no poi gli aerei non rimangono fermi lì nel cielo ma chi l'ha detto aereo io non sarà un aereo ecco guardate come scende uno sotto giù si dividono addirittura guardate cosa può essere pazzesco sembra non io davvero rimango senza parole su questi filmati andiamo avanti siamo in canada Ontario guardate questo filmato guardate quello potrebbe allora questa è la luna è quello che cos'è non ditemi che è il sole perché è di notte qua c'è la luna tutto è quindi andiamo un po più in grandimento vediamo un po più da vicino cosa è quella sfera guardate che luce che riflette sul mare guardate questa è la luna grande mistero grande mistero cosa succede ma andiamo avanti qui è ho scritto luogo sconosciuto perché non so la provenienza di questo filmato me li mandano a volte mi mando nel video e tanti saluti non mi danno spiegazioni guardate un po cosa c'è cosa cosa ha filmato quest'altro guardate come pulsa quella quella luce guardate cosa può essere secondo voi secondo noi incredibile era quanti filmati quante cose nuove sempre oggetti molto strani vediamo vediamo nel cielo ditemi cosa ne pensate nei commenti mi raccomando è ci tengo eccoci giunti alla fine del video avete visto quanta roba raga quanti filmati quanti avvistamenti che ogni settimana ogni giorno anzi vengono fatti in tutto il mondo allora voglio ricordarvi a voglio ricordare a molte persone che mi seguono che sotto in descrizione ci sono i miei social c'è la pagina facebook gruppo facebook telegram instagram tiktok eccetera eccetera c'è anche il gruppo telegram lì se volete unirvi siete benvenuti anche sulla pagina nel gruppo vedete voi qui sotto ci sono i social dove vi garba andate ok grazie ragazzi grazie a tutti per i complimenti e per il sostegno che mi state dando per le condivisioni e per i like ora da 100 150 like grazie 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 vi do appuntamento alla prossima settimana con altri nuovi filmati e mi raccomando occhi al cielo ciao ciao